Ben trovati nell'angolo dello sport, quindi è arrivata la voce ufficiale da parte del comune di Pescara, pertanto eccolo qui l'assessore Diodati, quando si farà, se si farà lo stadio, il restyling dello stadio Adriatico sarà per 20.000 posti e non per 16.000, tant'è che lo stesso Diodati ha detto ma chi l'ha cacciata fuori sta voce di 16.000 presenze? Beh, chi l'ha cacciata? Tutti ne hanno parlato, tutti lo sapevano, tutti hanno criticato, tutti hanno messo in evidenza come sarebbe stato un grosso errore rifare lo stadio Adriatico per 16.000 posti e adesso arriva lui e dice chi ha cacciato questa voce, qualcuno l'avrà cacciato, qualcuno forse non avrà capito che un bel tacer non fu mai scritto, comunque sia, è arrivata la voce ufficiale, 20.000 posti, quando sarà? Intanto il Pescara sta lavorando per la sua trasferta sul campo del Bari, una trasferta non facile, si è notato in queste due partite iniziali, sconfitta Livorno e Vittoria in casa, che il Pescara deve sistemare meglio la sua difesa. Campagnaro sta andando verso un graduale inserimento, si sta preparando e con i compagni, ma anche per conto suo con una serie di esercizi ad hoc studiati per lui, sta aggiungendo anche al lavoro sul campo e in palestra quello in piscina, quindi sta cercando Campagnaro di arrivare prima possibile ad un livello soddisfacente di preparazione perché anche lui ha capito che questa difesa pescarese ha bisogno della sua esperienza. Si stanno muovendo le tifoserie per questa trasferta, c'è stato un comunicato ufficiale dei Rangers per invitare i soci e anche gli appassionati insomma ad unirsi a loro per la trasferta con un pagamento mi pare di ricordare di 35 euro. Il concetto è questo, si sta notando un risveglio della tifoseria pescarese. Sarebbe opportuno che la Pescara Calcio approfittasse di questo nuovo clima, di questa sensazione che è comunque tangibile di questo risveglio dell'interesse della tifoseria verso la squadra per poter riaprire dei dialoghi costruttivi. Naturalmente siccome il rapporto fra Sebastiani e la tifoseria è piuttosto canceroso, oramai è più che rovinato, sarebbe opportuno che qualcun altro del CDA si desse da fare per ristabilire un feeling costruttivo con la tifoseria. Perché io che sono un giornalista datato ricordo perfettamente quando la Pescara Calcio brillava sui vari campi d'Italia sia di Serie B che di Serie A, quelle poche apparizioni che abbiamo fatto in Serie A, per una tifoseria molto calda, molto compatta, molto unita, molto folcloristica. Poi ricordo i treni, ricordo le carovane, ricordo momenti di esaltazione collettiva davvero eccezionali. Tutto è andato spegnendosi quasi nell'indifferenza generale. Adesso c'è questo piccolo risveglio, c'è un focrello che si sta accendendo, quindi bisogna alimentarlo. Chi è capace all'interno del CDA della Pescara Calcio di poterlo fare? A me sembra che ci siano due nomi possibili soltanto, Gabriele Bancoschi e Danilo Iannascoli. Datevi da fare, da voi dipende, perché ricostruire un rapporto, un feeling con la tifoseria significherebbe, a mio modesto avviso, ricreare le basi per una rinascita proprio dello spirito biancaggiorno. È vero che tutto questo deve essere anche supportato dai risultati, perché senza i risultati non si fa niente, no? Però con un Pescara come quello che abbiamo visto contro il Perugia, beh, se arriva qualche altro bel risultato, per esempio da Bari, sarebbe davvero eccezionale, si potrebbero fare dei sogni piuttosto legati alla concretezza. È tutto per questa edizione. Un affettuoso abbraccio a voi tutti, come sempre, da Gianni Lussoso, un ringraziamento al regista Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport. Grazie.